Palla sul primo palo Andrea Belotti 1-0 il primo gol del Gallo Errore di Berratti, Nestorowski per il contropiano e Nestorowski e il pareggio della Macedonia, con clamoroso errore di Berratti Contropiano della Macedonia possibile, attenzione che spinge Pandev Dentro ancora Nestorowski, la tocca e la Macedonia in vantaggio, incredibile con Asani, incredibile Immobile, palla fuori, ecco un'altra buona opportunità, Candreva dentro Immobile 2-2, Immobile la ria ciuffa per i capelli e adesso c'è ancora spazio per andarla a vincere Sanzone, arriva il Traversone sul secondo palo, si sta per coordinare De Sciglio, poi arriva Candreva Cerca il cross, eccolo Immobile, eccolo Immobile, è sempre lui che la veste, eccolo qua al 91, 3-2 A presto, è sempre lui che la veste, eccolo